Eccoci qua per mettere un punto definitivo alla vicenda Bastoni, alla vicenda Barri, il complotto, l'Inter, la Marotta League e amnesie varie che ho sentito nella giornata di oggi, ma non solo nella giornata di oggi. Allora, innanzitutto vi chiedo di mettere mi piace al video perché ci tengo molto a questo video che venga diffuso, che sia visto, perché è giusto che la gente sappia, perché la gente parla, ma la gente non sa, la gente non è informata di chi c'è dietro il VAR, di chi fa il VAR, di come viene gestito il VAR in Italia, ed è giusto che lo sappia perché io, che sono una persona che si documenta, ve lo riporto. Quindi vi chiedo di mettere mi piace al video, di condividere, iscrivetevi al canale, se siete già iscritti attivate la campanellina delle notifiche, e seguitemi su Instagram, Twitter e TikTok, taggatemi magari in pezzi di video, di modo che lo diffondiamo anche su altri social, e poi possono arrivare al link principale. Allora, punto numero uno, se tu arrivi su questo video e vedi i quadretti, non sai chi sono, ti spiego brevemente, io non sono qui a dire la Marotta League, il complotto, eccetera, io sono da sempre, da anni, una lotta costante alla classe arbitrale italiana, che ritengo scarsa, io penso che ci siano degli arbitri bravi nell'AIA, ma penso che tanti dei componenti dell'AIA della Serie A, o del CAN A, il cosiddetto CAN.A, quindi gli arbitri che arbitano in Serie A, li ritengo inadeguati al loro ruolo. Innanzitutto, voi non sapete quanto guadagna un arbitro di Serie A, un arbitro di Serie A può arrivare ad avere un introito lordo annuo di quasi 100.000 euro, i migliori se non una 40-50.000 euro, quelli che arbitrano di meno, quindi parliamo di vero e proprio lavoro, dei professionisti che vengono pagati per quello che fanno, e in quanto pagati profumatamente, non si può accettare non ha visto, non si può accettare è stato un errore, non si può accettare è stata una svista, perché la svista può capitare, è rare e umano, però è stata messa la tecnologia per aiutarli questi cristiani, e attualmente questi cristiani rifiutano l'aiuto della tecnologia. Adesso andiamo sui fatti, andiamo sui temi, i tanto discussi episodi di quest'anno sono stati tre principalmente, poi c'è Genua-Inter, dopo ne parleremo del vergognoso audio di Irrati al VAR, c'è Inter-Verona con Bastoni, c'è Genua-Milan con Pulisic, c'è Juventus-Bologna. Partiamo dal fatto che su di questi tre episodi c'è una sostanziale differenza, in due il VAR viene utilizzato male, probabilmente male, perché Juventus-Bologna è un chiaro errore, Genua-Milan, la mia opinione la lascio da parte, perché per me ancora oggi la convinzione che noi siamo a mano non ce l'ho, però la lasciamo da parte, diciamo che è stato utilizzato male e che anche lì il gol andava annullato. Su due episodi però viene usato il VAR, viene visto e rivisto, ci si ferma proprio 6-7 minuti, e poi si prende la decisione sbagliata. Quindi chi ha preso quella decisione deve essere allontanato momentaneamente dal mondo arbitrale. In questi casi c'era Di Paolo al VAR di Genua, c'era Nasca al VAR di Juventus-Bologna, e Nasca lo ritroviamo al VAR dell'Inter, dove non valuta, perché tra il gol e la valutazione del gol regolare passa un minuto e mezzo, quindi si presuppone esattamente come il fallo di Bisseca a Genua, che ci sia stato un check velocissimo, sì, tutto regolare, andiamo avanti. Quindi Nasca sbaglia totalmente l'utilizzo del VAR, rifiuta l'utilizzo del VAR, non aiuta l'arbitro Fabri, quindi non c'è un vero e proprio supporto della tecnologia all'arbitro di campo. Ma avete presente i nomi che vi ho fatto? Luigi Nasca e Aleandro Di Paolo. Sono due dei varisti più utilizzati in Italia. Allora io chiedo a voi, secondo voi è normale che Nasca, che è stato un ottimo arbitro di Serie B, perché ha arbitrato centinaia di partiti di Serie B, ma che è in Serie A arbitrato 22 volte totali? Nasca, se voi sono dati consultabili su Transfer Market, sono dati pubblici del rendimento arbitrale, Nasca ha arbitrato 22 volte in Serie A. Di Paolo conta ben quattro presenze in Serie A ed è uno dei VAR più utilizzati di tutto il campionato di Serie A. Ora vi chiedo, secondo voi è normale che degli arbitri che in Serie A praticamente ci sono arrivati con la punta del naso, ma che non hanno effettivamente calcato i cambi di Serie A, come può essere un Massa? Massa, per esempio, è uno che ha arbitrato tanto in Serie A. Valeri, che oggi è uno dei VAR utilizzati meno, ma c'è, è uno che ha fatto centinaia di partiti di Serie A. Il Rati stesso ha fatto centinaia di partiti di Serie A. Io vi chiedo perché degli arbitri, che hanno arbitrato poco in Serie A, quindi non hanno una rinomata esperienza come arbitri di Serie A, debbano essere quelli più utilizzati nel VAR della Serie A. Io questa cosa non la capisco e questa cosa non la sa nessuno. Questo dato io me lo sono dovuto andare a cercare perché non c'è stato un giornalista, non c'è stato uno youtuber, non c'è stato un esponente arbitrale che mi abbia informato sulla carriera arbitrale dei VARisti. Io mi sono andato a documentare, perché sono una persona che si documenta prima di parlare, sui VARisti oggi che vengono utilizzati nella Serie A. E se è vero che ci sono degli arbitri rinomati, appunto come i Rati e Valeri, che hanno centinaia di presenze, io non capisco perché ci siano degli arbitri di Serie A utilizzati al VAR che non hanno tutta questa esperienza. Allora a questo punto facciamo dei corsi da zero da varista. Non prendiamo gli ex-arbitri, non prendiamo chi ha arbitrato o chi arbitra. Prendiamo e facciamo dei corsi direttamente da varista, tanto tra aver arbitrato quattro partite di Serie A e non aver mai arbitrato in Serie A cambia relativamente poco. Voi direte arbitrato in Serie B. Arbitrato in Serie B e qui sovviene quello che sta succedendo. Perché? Perché Nasca, che ha arbitrato centinaia di partite di Serie B, quindi è stato un ottimo arbitro di Serie B, non ricordo le prestazioni, però ha arbitrato tanto in Serie B, viene punito. ci comunicano che al netto del fatto che ha sbagliato a Juventus Bologna e che ha risbagliato oggi con l'Inter Verona, perché l'AIA ammette l'errore, quindi ha sbagliato, che che ne dicano gli influencer dell'Inter, Nasca viene punito. Viene punito perché viene mandato al VAR di Serie B. Allora, la Serie B come viene vista dall'AIA? Viene vista come una categoria inferiore, una categoria nella quale si può... Innanzitutto viene vista con razzismo. Viene vista una categoria nella quale l'errore è permesso. Viene mandato una persona per punizione a fare il VAR in Serie B. E allora, se il VAR di Serie B si può sbagliare, ci può essere allora, allora devo pensare anche all'arbitro di Serie B. L'arbitro che ha più presente in Serie B che in Serie A è meno preparato dell'arbitro che ha più presente in Serie A. E quindi, perché Nasca? Ma può essere Nasca come Pingo Pallina, come Giuseppe Marotta, come Giorgio Furlani. Perché una persona che ha avuto 22 volte l'onore di arbitrare un campo di Serie A viene messo al pari di chi l'ha avuto centinaia di volte. Allora c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va proprio nell'operato di chi decide. Perché la punizione è ti mando a fare il VAR in Serie B. E perché la squadra di Serie B non concorre per un campionato? Non si sta giocando dei punti? Può avere un arbitro che ha avuto delle nette difficoltà a fare il VAR in precedenza? Viene usata come diciamo come rimettersi incariggiata la Serie B? È giusta questa cosa? Chiedo a voi, non lo so, per me non è giusta, però chiedo a voi. Se a questo punto può essere una punizione della Serie B, per me un provvedimento adeguato sarebbe stato un corso d'aggiornamento. Ti siedi alla scrivania, ti fai un corso del regolamento con suddetto esame perché sei al secondo, terzo, quarto errore, devi necessariamente dimostrare di avere la preparazione adeguata per tornare a fare il VAR in Serie A. Ma perché al VAR di Serie A corrisponde un cospicuo stipendio? Non è che lo sto facendo per hobby, quindi tu devi dimostrarmi di meritarlo quello stipendio lì. Però queste cose non le dice nessuno. Cioè il fatto che la Serie B venga vissuta come una punizione, venga mandato chi ha sbagliato a fare il VAR in Serie B è come se la squadra di Serie B fosse ma sì, tanto se sbagliano in Serie B, vabbè, no! Il discorso se sbagliano va bene in quarta categoria, va bene ai Pulcini, ai Juniors, dice vabbè ma chi la pigli 50 euro e ti rimborso spese ma tu che pretende sta facendo la gavetta. Uno che prende, non lo so Nasca quando prende ma in generale dico gli arbitri di Serie A e i varisti di Serie A che prendono uno stipendio vero e proprio, prendono delle cifre importanti per fare quelle partite lì che fanno e puoi sbagliare una volta, puoi sbagliare due ma se, amico caro, sbagli tre, quattro volte con errori gravi, con errori grossolani come può essere Bologna-Juwe, come può essere Interverone, come può essere Genoa-Milano, amico, mi devi dimostrare una preparazione, devi rifare una preparazione adeguata, ditemi voi poi se sto sbagliando. Chiuso questo discorso, vi ho portato dei dati che spero diffondiate perché è giusto che si sappia come si scelgono gli arbitri delle partite e come si vivono le punizioni degli arbitri, che poi punizioni non sono perché comunque continuano ad arbitrare altre partite subito la settimana dopo, di solito. Ma i rati, veniamo ai rati di Genoa-Inter, se si direi è uscito il video di questa trasmissione che secondo me non serve a nulla a Open Bar, cioè Open Bar o ammette l'errore o non l'ammette, cambia nulla, cioè ci fanno sentire questi dialoghi e un palliativo a chi voleva che gli arbitri parlassero ma è totalmente diverso da quello che si chiedeva e non serve assolutamente a nulla, l'80% delle volte giustificano gli errori. E allora cosa ci dice il rati durante il bar? Lui guarda la telecamera, c'è una netta spinta di bisse tanto che Gervasonio, un responsabile AIA ha detto è un errore netto, doveva richiamare l'arbitro all'arrore, io pensavo che doveri avesse detto di aver visto dal campo e quindi il bar non c'entrasse che anche egli, invece mio stupore ho dovuto vedere che non era così e il rati che cosa fa? No, non c'è nulla, andiamo avanti. Allora, per me un arbitro che vanta 100 presenze in serie A più di 100 presenze in serie A e che guarda con l'immagine e dice no, non c'è nulla, andiamo avanti, deve fare un corso di aggiornamento, deve essere fermato per studiare il regolamento perché se una spinta a due mani su un giocatore avversario non viene valutata come fallo vuol dire che si disconosce il regolamento, non si è preparati, perché non posso pensare io posso pensare a due cose o quello o la malafede siccome sono uno che il campionato vuole guardarlo pulito vuole credere che non stia guardando un telefilm già preimpostato non penso alla malafede penso all'impreparazione all'inadeguatezza quel dialogo è abberrante per me è frustrante sentire che un professionista mi dica che quello non è fallo non è niente andiamo avanti ma non è niente cosa cioè si rifiuta proprio l'aiuto della tecnologia già si rifiuta perché se l'arbitro va al VAR è penalizzato nella valutazione Rocchi dice che non è così ma non dice proprio che non è così dice che è chiaro che se il VAR deve correggere due o tre volte l'arbitro è chiaro che la valutazione non sarà proprio positiva che cosa vuol dire che più vai al VAR più la tua valutazione scende cioè te lo fa te lo fa capire te lo fa sottintendere ma poi quello è quindi già noi rifiutiamo a prescindere ma poi se di fronte al VAR lo utilizziamo in questo modo togliamolo perché non serve a nulla cioè se di fronte all'immagine diciamo che quello non è fallo e non serve a nulla cioè a questo punto l'unica nostra salvezza è l'intelligenza artificiale che spazi via l'uomo e che la tecnologia sia totale e così il margine d'errore venga ridotto all'osso questa è l'unica soluzione per quanto riguarda invece la polemica stamattina dei tifosi dell'Inter che si sono lamentati c'è un accanimento contro l'Inter tutti ce l'hanno con l'Inter no tutti ce l'hanno con chi è primo in classifica ed è così da sempre ed è così da sempre e tutti ce l'hanno sempre con la Big che vince con l'episodio arbitrale dopo Juventus-Bologna è inutile che dite no ma dopo Juventus-Bologna nessuno parlava ma che cazzo dite dopo Juventus-Bologna ci sono state le stesse polemiche dopo Genoa-Miran siete andate avanti settimane a fare le interrogazioni parlamentari su quella partita quindi non dite eresie oggi ho visto interissi attaccarsi alle prime pagine dei quotidiani perché usannavano la Juve e di che devono parlare della partita di due giorni prima parlano della partita vinta dalla Juve al novantesimo che è in corso a Scudetto come è giusto che sia cioè non iniziamo a vedere i fantasmi come voi non volete che la gente parli del complotto della Marotta League eccetera non andate a fare la stessa giochino al contrario parlando che tutti ce l'hanno con l'Inter no nessuno ce l'ha con l'Inter siccome l'episodio è avvenuto in una partita dell'Inter e non era la prima partita ma c'era stato il Genoa il Lecce il Napoli con le quali le polemiche erano state molto più contenute è arrivata la quarta polemica su cinque partite è chiaro che esplosa la bolla mediatica per oggi dovete stare dovete difendervi il gioco delle parti dovete difendervi le vostre ragioni o ammettere l'errore come hanno fatto in molti e fine non gridare a tutti ce l'hanno con l'Inter perché nessuno ce l'ha con l'Inter tutti ce l'hanno con una classe arbitrale che continua comunque sia a cambiare i risultati delle partite perché poi vuoi o non vuoi anche con tutta la buona fede del mondo i risultati delle partite con determinati episodi che avvengono agli ultimi minuti possono cambiare ma ci metto dentro Genoa-Milan sarebbe finita 0-0 se quello lo riteniamo un errore Juventus-Bologna già meno perché non avviene agli ultimi minuti però ci sono episodi determinanti poi pure sto benaltrismo l'ho detto in una live deve finire cioè se io facciamo una trasmissione e parliamo dell'episodio di Bastoni eh ma Genoa-Milan pulsi c'è ma Juventus-Bologna ma che cazzo c'è ma stiamo analizzando quell'episodio lì questa è una teoria tutta italiana dove se uno fa una cosa deve sempre puntare il dito su quell'altro che ha fatto peggio come quelli che dicono eh ma c'è la eh ma mica su questi problemi c'è la fame nel mondo ma io penserò ai problemi miei prima cioè c'è sempre questa forma di benaltrismo che è di una tristezza unica che è quando uno non sa che cosa dire quindi non fate quello di cui accusate i complottisti che dicono Marottalichi eccetera voi lo fate al contrario con il vittimismo non fatelo spero di essere stato chiaro mi si sta anche asciugando la gola spero di aver riportato dei dati interessanti e non le solite chiacchiericce è chiaro che ho fatto un discorso di quasi 20 minuti che è impossibile da portare in una live con altre persone e spero che vi possa aver illuminato vi chiedo di iscrivervi al canale se siete già iscritti attivate la cammarellina delle notifiche e mettete mi piace al video e condividetelo forza Milano grazie a tutti